L'immaginario d'Europa, quando noi in Egitto, l'Europa ha salutato, ha fatto la coiffure sociale, ha fatto tante cose a livello di giustizia sociale. Ti dico la verità, fratello. Io ho perso la vita. Io ho perso tutto. Per me, io ho perso tutto. Il grande sbaglio della mia vita è che ho arrivato a questo paese. A Pueller, i tunisini, quando tornano lì per fare l'estate, vanno le vacanze lì, non dicono la verità. Tu dici l'Italia, vai via perché stai qua ancora in Italia. Tu quando pensi che i soldi si stanno per ristrarre, tu raccogli e metti le tasche. Quando uno ti dice torna a casa tua, tu non puoi per me. No. Tornare a casa, c'è questa domanda, spero di non incontrare nessuno che me la fa, c'è in quel senso, ma se me lo fa per sapere, gli dico no, non posso. Quando vado a termini, mi sentivo che sta in Egitto, nel collegamento tra Piazza 200 e Piazza Tahrir, che sta qua, sta nell'ingiustizia sociale. C'è ancora qualcuno, qualche parente in Tunisia? Sì, sono fuori. E loro lo sanno che sta messo così? Loro hanno messo la tomba, aspettano qui, arrivo morto. Sì, sono fuori. Sì, sono fuori.